Luca, mi spieghi un po' che parte è questa qua? Dove siamo qua sopra? Di fatto siamo nella parte dell'albergo che è completamente collassata, stiamo lavorando perché fra le solette negli interstizi in pratica abbiamo trovato delle persone e si sospetta che dovrebbe esserci delle altre. Come vedete stiamo lavorando con pale perché il problema grosso è che non si riesce comunque sia a lavorare diversamente. Purtroppo ci sono rami, ci sono mattoni, c'è di tutto e quindi bisogna lavorare, togliere, portare via e continuare a scavare sostanzialmente. Quanto si estende la valanga così visivamente? La valanga di fatto ha preso il canale quindi da una parte del bosco all'altra, sarà all'incirca un fronte di 400-500 metri. Di fatto è scesa nel canale che vedete là dietro nella nebbia, ha fatto questo salto e ha colpito l'albergo completamente. Di fatto portandolo via la zona che si vede sotto che era la zona dove c'era il centro benessere è rimasto tale, la parte sopra è stata portata in avanti di 15 metri. Qui siamo praticamente nella parte che è stata completamente spinta in avanti. Quindi siamo sopra l'edificio? Assolutamente, noi siamo sopra l'edificio. e quindi siamo sopra l'edificio. sono sopra le parole. e noi siamo sopra presto, sicuramente le bronze orient abbia il plannedia. Lo hai ancora un periodo. Il focus è un po' possibile. È un po' contratti durante la medida e non è un po'. state bucando sotto là? state bucando? marce bo c'est juste Lucas beaucoup Grazie 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 Grazie